ciao a tutti oggi prepareremo il pan d'arancio il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa ingredienti sono arance biologiche tagliate a pezzi farina di tipo 00 zucchero di canna zucchero selamolato olio di semi di girasole uova latte lievito per dolci vanillina sale e marmellata d'arance andiamo in via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'arancia che abbiamo tagliato a pezzi e abbiamo lasciato con la buccia e facciamo dritare per 10 secondi a velocità 8 fermiamo sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo lo zucchero di canna lo zucchero semolato la farina la vanillina il pizzico di sale le uova il latte e l'olio di semi chiediamo con il coperchio il misurino e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 6 aggiungiamo il lievito e azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 5 il composto è pronto trasferiamolo in uno stampo a ciambella del diametro di 24 centimetri prima di trasferire il composto nello stampo cospargiamo il fondo dello stampo con dello zucchero di canna completiamo cospargendo anche il fondo con lo zucchero di canna adesso cuoceremo in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 45-50 minuti circa verificando la cottura sempre facendo la prova a stecchino la torta è cotta lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo una volta sformata la ciambella andiamo a guarnire con la marmellata d'arancia e vediamoci con un pennello al silicone completiamo spolverizzando con lo zucchero di canna pan d'arancio grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti